L'unità di crisi della Regione Campania ha predisposto all'aumento dei posti letto per fronteggiare l'aumento dei contagi. Le aziende ospedarie e le asole dovranno adeguarsi a interrompere i ricoveri medici e chirurgici. Per la terapia intensiva in Campania devono essere messi a disposizione 301 posti, per la semintensiva 359, mentre i posti di degenza ordinaria saranno 991 per un totale di 1.651. Per l'azienda Moscati terapia intensiva 20 posti, 38 di semintensiva 45 di degenza ordinaria per un totale di 103 posti finali. ASL di Avellino terapia intensiva 13 posti, 15 di semintensiva 30 di degenza ordinaria per un totale di 58 posti, ma i conti non tornano. La circolare della Regione ci chiede di attivare 58 posti letto. Ad Ariano abbiamo 33 posti che saranno disponibili a fine mese, tra terapia intensiva, subintensiva e ordinaria. A Sant'Angelo dei Lombardi apriremo 6 posti di subintensiva perché utilizzeremo gli spazi dove dovrebbe venire la terapia intensiva. Siccome è una zona che può essere gestita in maniera isolata dal resto dell'ospedale, quindi si utilizzeranno anche questi posti letto e poi naturalmente per raggiungere 58 posti letto anche nell'ospedale di Ariano Irpino dobbiamo riconvertire la medicina, così come è stato fatto nel primo periodo della pandemia. Quando riguarda la terapia intensiva da Sant'Angelo, come voi ben sapete, è un reparto oramai realizzato da più di due mesi. La nostra difficoltà è nel reperire il personale medico, mi riferisco agli anestesisti, in quanto pur avendo fatto avvisi pubblici, pur avendo chiesto gradatorie in regione, non riusciamo a reperire la disponibilità di questa figura professionale che, come voi tutti sapete, è carente dappertutto. Non ultimo abbiamo chiesto una graduatoria alla Napoli 2 Nord che da poco ha concluso, quindi ha portato a termine una procedura concorsale. Speriamo che nel momento in cui ci metta a disposizione questa graduatoria troviamo questi anestesisti che sono disponibili a venire nelle aree interne e quindi a mettersi a disposizione della nostra realtà.